Facebook e ora andiamo a Preganziol, ieri la decisione del sindaco di cacciare dalla giunta l'assessore che si era schierato a favore del parroco di Lerici sulla questione femminicidi sentiamo lui che dice, io coordinatore del PDL, ritengo che questa decisione non sarà priva di conseguenze Il mio sindaco dico che per quattro anni abbiamo lavorato insieme, mi sembra di aver fatto bene il mio lavoro mi dispiace che lui sia stato costretto per opportunità o per paura a revocarmi le deleghe di questo penso pagherà qualche piccola conseguenza coordinatore comunale del PDL non è intenzionato a farla passare liscia al sindaco Sergio Marton l'ormai ex assessore Simone Tronchin, ieri la revoca delle deleghe per aver appoggiato la presa di posizione del parroco di Lerici Don Piero Corsi che sul tema del femminicidio ha puntato il dito contro le donne Marton non ha aspettato che il consiglio si esprimesse, non aver difeso un rappresentante della sua maggioranza per Tronchin lo ha screditato, se il PDL dovesse togliergli la fiducia all'amministrazione cadrebbe dispiace a me vedere che non si ha il coraggio di mantenere le proprie posizioni di mantenere e custodire le proprie idee ma di adeguarsi, di farsi intimorire di dover sempre apparire politically correct, questo non va bene l'ex referente dell'urbanistica torna a spiegare il senso dell'appoggio a Don Corsi Ho chiesto scusa per le frasi che non ho detto, probabilmente io ho scritto io sto con Don Corsi dovevo aggiungere io sto con Don Corsi in questo caso particolare in cui viene attaccato, calugnato in cui viene occupata una chiesa, mi dispiace veramente però i social network sono dei modi veloci e purtroppo questa è la realtà